Il video di oggi mi renderà probabilmente impopolare, quindi se sei permaloso, se sei una persona a cui non piace sentirsi dire le cose come stanno, è meglio che non guardi questo video. Ho purtroppo visto in questi giorni su diversi gruppi di elettricisti e professionisti di cui faccio parte su Facebook, condividere e ricondividere la notizia della perdita da parte di una nota multinazionale, Very Sure, delle registrazioni di una piscina dove è morta una bambina. E gli installatori che hanno ricondiviso anche sui propri profili personali, come dire guarda questi, guarda che bella cosa che hanno combinato, guarda come sono bravi. Personalmente trovo questo genere di sciacallaggio su notizie del genere veramente riprovevole ed è quello di cui voglio parlare nel video di oggi. Non capisco bene l'intento di chi ricondivide questa notizia. Se è per parlare male di una multinazionale che tanto dell'installatore, dell'artigiano se ne frega, lo reputo abbastanza inutile. A me non è mai piaciuto fare notizia, fare contenuti sulle notizie di cronaca, eppure è proprio quello che bisognerebbe fare per avere visibilità su YouTube. Si sarebbe potuto fare un video bellissimo dal punto di vista tecnico sulle immagini del Ponte Morandi che sono uscite dopo un anno, le avrete viste tutte. Sul perché non è vero che c'è stata la manomissione, sul perché tecnico più frame, più frame a seconda dei secondi. Si sarebbe potuto fare un video bellissimo e avrei risposto a tutti i complottisti del mondo molto volentieri. Non l'ho fatto perché non mi piace tirare visualizzazioni parlando di incidenti, parlando di gente che è morta. Ora, il fatto che, beh, Erishor in questo caso, ma chiunque sbagli, abbia commesso un errore, non vi farà vendere neanche un impianto in più. Ma soprattutto, perché questi signori vendono e voi no? Siete davvero sicuri che è perché esistono loro che non vendete voi? Non è assolutamente così. Il motivo principe per cui questi signori vendono è la loro preparazione commerciale. La preparazione commerciale di questi venditori, che sono stressati, a bomba, perché nelle multinazionali i venditori sono veramente messi sotto una pressione bestiale. E fidatevi, io l'ho fatto per 4 anni e in tempi migliori ero sottoposto a una pressione mostruosa. Cioè, mi veniva chiesto conto del fatturato giornaliero, no mensile, giornaliero, giorno per giorno. Se dovevi fare tot, come mai oggi non hai venduto ordine? Ci sarà il giorno che voi non vendete niente? Ci sarà il giorno che... ecco, immaginatevi. Però, questo ti obbliga ad avere una preparazione commerciale veramente forte per farcela. Per cui, entrate dal cliente... Mi capita spesso che molti di voi sono dal cliente e davanti al cliente in sede di preventivo. Mi telefonano per dire, ma l'allarme fa questo? Ma possiamo vedere le telecamere sul telefonino? Ma possiamo fare questo davanti al cliente? Ora, vi pongo uno scenario simile. Siete sulla poltrona del dentista, che per me, come voi già sapete, è uno degli incubi peggiori. E il vostro dentista apre la bocca e comincia a chiamare un collega, a chiamare l'altro collega, a chiamare quello di là. Secondo te cosa ne pensi? Ma qui cosa facciamo? Vi si stringerebbe, non dico che cosa, no? Dice che questo mi sta per mettere un trappone in bocca e non ha idea di che cosa ho. Ora, immaginatevi la stessa scena da parte dei vostri clienti. Voi dovreste vendere sicurezza e già in fase di preventivo non sapete niente. Lasciamo perdere la qualità del servizio, il fatto che l'impianto non sia loro, il fatto che questi signori rateizzano, incassano più di voi per un impiantino in alto. Sono tutte cose verissime, ma questo il cliente non lo sa. Il venditore di virtual trasferisce sicurezza? Voi? No. Punto. Quindi, se non ci fossero loro, ci sarebbe qualcun altro più preparato commercialmente, più preparato tecnicamente, più preparato in generale. Ma soprattutto commercialmente. Molti installatori, anche i miei clienti, in fase di preventivo non trasmettono sicurezza. Che non vuol dire che se uno è bravo commercialmente gli impianti li prende tutti, non li prendono neanche questi signori, state tranquilli. Se no, andremo tutti a fare i venditori per loro e saremo tutti più ricchi. bisogna essere sul pezzo, bisogna essere preparati. Non è parlando male di loro o sciacallando su notizie drammatiche che venderemo di più, ma studiando, studiando, studiando. Ma io con il mio impianto vorrei integrare Google Home. Giusto, sbagliato. Faccio un esempio, non prendetelo dal punto di vista tecnico, posso farlo? Sì, no. Subito, risposta sul pezzo. Molti di voi non lo sanno. E via dicendo. Tantissime, tantissime telefonate a me, che sono un ragazzo, che sono da pochissimo nel settore rispetto a molti miei clienti, e che sono un cacchio di banconista. Perché poi questo sono. Come faccio a sapere io qual è il migliore sensore da esterno per quella installazione da dentro un ufficio? Queste sono le cose che non fanno vendere gli impianti. La mancanza di trasparenza, la mancanza di sicurezza, la mancanza di preparazione, sino in sede di preventiva. Ma pensate un po'. Voi arrivate sudati, sporchi, in ritardo. Mentre questi signori arrivano belli, precisi, puntuali, e mettono giù sicurezze. Sicurezze che non hanno, ma che trasmettono. Voi magari avete una sicurezza tecnica che il vostro prodotto sia migliore, perché realmente lo è, ma non sapete venderlo. Parafrasando Andreotti, a parlare male si fa peccato, e non ci si azzecca mai. Ciao. Ciao.